Un po' sorridi, un po' fischietti. Non ti ho mai visto così contenta. Che ti devo dire? È come se avessero gettato i miei problemi giù da un aereo. Quanto al lato sentimentale. Volete che me la squagli in modo che voi possiate costruire il vostro nillo d'amore? Sì, certo. Finisci. Blandy aveva ragione. Mi sa che tra voi c'è una noia mortale.